E di qualche giorno fa la notizia dell'estromissione dalla giunta di Francesca Buttari, dalla giunta Luciani. Sono passate alcune ore, è rimasta l'amarezza? Sì, l'amarezza sì, nel senso che questa vicenda, che era una vicenda politica, anche comprensibile in alcuni suoi passaggi, poi ha assunto anche tratti personali, perché credo che comunque bisognava aprire una discussione plurale, allargata, e invece si è conclusa con la mia estromissione dalla giunta. Quindi anche per il percorso che ho fatto con il sindaco, che è stato per un lungo periodo di grande sintonia, c'è anche una ferita personale adesso, sì. Non era possibile evitare che questo accadesse? Molti si fanno questa domanda. Poi ragionare col senno del poi è complicato e sicuramente ci sarà il tempo anche di fare questo tipo di valutazioni, che oggi sono difficili, perché è comunque una valutazione a caldo. Sicuramente ognuno ha le sue ragioni, che liberamente abbiamo esposto. Mi auguro, appunto, invece che per evitare ulteriori tensioni e fibrillazioni all'interno della maggioranza, ma anche della coalizione di centro-sinistra, sia veramente aperta una discussione che tenga conto del pluralismo e dei diversi punti di vista. La mia disponibilità, che è sempre stata tale, quindi non una impropriamente, come si dice, una candidatura o come qualcuno dice strumentalmente un'autocandidatura, ma è sempre stata una disponibilità che ho dato al Partito Democratico, al centro-sinistra. E' chiaro che il procrastinarsi della data del voto adesso rimette, secondo me, anche un po' in discussione alcuni aspetti. Mi vorrei soffermare piuttosto su quello che è il mio impegno nella comunità francavillese, che ho rinnovato, nel senso che io sono una dirigente del Partito Democratico, sono una donna che ormai è diventata comunque un punto di riferimento per la città e quindi il mio impegno rimane. L'altro impegno che sicuramente porterò avanti è quello di aiutare la coalizione di centro-sinistra ad essere il più plurale e il più larga possibile.